ciao oggi faremo un video bellissimo giocheremo a regina reginella ma chi sarà la regina? io! ciao Sabri! mi sono mancata? tantissimo Sabri tantissimo oggi sono la regina e mi ha conto i nostri progetti che mi assisteranno ciao! ecco sono un po timidi scusate lui è il paggio numero 1 esatto come lo chiami? il pelato lui è il paggio numero 2 ciao paggi allora Sabri oggi giocheremo a regina reginella e tu sei la regina grazie guarda che trono che ti abbiamo fatto wow vado su? si eccomi qua sono pronta sapete cosa dovete fare? andare in fondo Irene oh regina reginella potete fare per arrivare al tuo costello tutto d'oro tutto bello? una camminata da ipopotamo per 5 passi l'ipopotamo mentre mangia ovviamente sentiti un ipopotamo brava! 4-5 Martina oh regina reginella cosa devo fare per arrivare al tuo castello? Andrea sceglie una capriola con avvitamento Andrea non sa niente cosa voglia dire bravissima! mi colla mi colla mi colla mi colla origina reginella cosa devo fare per arrivare al tuo castello tutto d'oro tutto bello? ok Andrea propone 5 splash di salmone ce l'hai su col salmone eh? ma quello è un portacqua ma quello è un portacqua esatto mi colla mi colla mi colla grazie 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 ora regina reginella cosa devo fare per arrivare al tuo castello tutto d'oro tutto bello? grazie 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 devi fare 2 flick cada 方 Martina origina reginella cosa devo fare per arrivare al tuo castello tutto d'oro tutto bello? Andrea Vai E' già un recambio Perché lei no? Perché volevo dire ciò buono Brava Marti Emma E' una buona favolita Allora Emma farai? Ho già detto devo dirvi Oh regina e reginella che cosa devo fare Per arrivare al tuo castello Al tuo castello tutto da Per arrivare le tre passi avanti Credendo di essere un gorilla arrabbiato E' la buona favolita Ah si Faddi Oh regina e reginella Cosa devo fare per arrivare al tuo castello Tutto d'oro tutto bello E' un fattato Faddi facciamo fare Una bella camminata in verticale Girando Bravissima Giadi Aiuto Oh regina e reginella Cosa devo fare per arrivare al tuo castello Tutto d'oro tutto bello No No quello è troppo No dai No dai Sì dai ce la fa fidati Ce la fa Tre passi all'indietro No 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 Non noi explained No 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 Diviii andare di la Attenta dietro No 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 noo no 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 없다 Ihre Oh regina e reginella cosa devo fare per arrivare al tuo castello tutto d'oro tutto bello una bella ribaltata senza e si sbaglia? non può sbagliare dai Erika forza oh regina, reginella cosa devo fare per arrivare al tuo castello tutto d'oro, tutto bello? usarti i capelli, non è vero 4 passi da gambero con la gamba in su con la gamba in su la gamba in su brava che tempo va a un anno in un altro paese? mi sento molto sola ci pensiamo solamente a fare se io chiamo un giorno già di soleggiata tiene la pirene oh regina, reginella cosa devo fare per arrivare al tuo castello tutto d'oro, tutto bello? una bella ruota senza mani seguito da capovolta avanti così torna indietro vai vai ruota senza mani e seguito da capovolta avanti aiuto no 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 martin oh regina, reginella cosa devo fare per arrivare al tuo castello tutto d'oro, tutto bello? eh, qualcosa di imbarazzante bisogna fare le cose devi fare un urlo talmente forte che ti sentono fino all'inviate però sta fermato il posto si puoi fare un saltello se vuoi dai bellissimo non già sentite nemmeno Laila che sta dormendo sul materasso brava hai diverse tonalità bravissima brava oh regina, reginella cosa devo fare per arrivare al tuo castello tutto bello tutto tutto bello? si ecco prego Andre qualcosa che c'entra con il salmone no povera salmonesa dai ok ce l'ho io capovolta verticale per due volte e devi star fermo su tre secondi uno, due, tre brava brava proprio come ti ho insegnato brava brava oh adesso c'è una bella chi tocca? Camilla oh regina, reginella cosa devo fare per arrivare al tuo castello tutto d'oro, tutto bello? devi fare una bella ruota flick prima di me ma non so devo farla senza sto punto farla come vuoi grazie 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 regina, reginella cosa devo fare per arrivare al tuo castello tutto d'oro, tutto bello? devi camminare in verticale con le gambe aperte quanti passi? quanti passi? perché se no lei arriva lì ma così? no no così, bilancia arrivate? no capito grazie 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 Oh regina, reginella, cosa devo fare per arrivare al tuo castello tutto d'oro e tutto bello? Qualcosa per convincerla Ok Convincila Devi convincerlo io non c'entro niente Ma guarda già con il cibo in generale Le cucino in piatto di lasagne Mi devo preoccupare Mi sembra più una minaccia Scusate le cucino io Allora uno difficile Difficile Difficile? Sicura? Sì Ma poi è tosto Ma sono a livello un po' troppo No ce la fai Vabbè ora facciamo per intero eh Tre salti a rana Scusa i miei sudditi sono un po' quello che sono Rana sudata se riesci Con le mani sudate Che problematica questa rana? Io non ho mai visto una rana così Giadi 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 Adesso provo a cominciare Rondata e salto Vai E salto Vabbè dai va a dire tu Parti più avanti Non partiti da lì E ora voglio partire Aspetta Si possono essere un attentato alla mia vita Sì perché se non mi avessi fatto tutto scusa Erika Perone Oggi Erika Oggi 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 Cosa devo fare per arrivare al tuo castello tutto da un tutto bello? Tutto bello? Comincia 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 Ah Andre stavolta Andre Andra 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 Ehm Posso offrirti altro cibo? Ehm Non senza zucchero però non sto cibo Si va bene Va bene Ma che tipo di cibo? Ehm Un dolce senza zucchero Scegli tu A tua scelta Capovolta indietro alla verticale No lo sta facendo Brava Piccolina Piccola Piccola Sei pronta a convincere? Chi deve convincere? La regina Regina deve convincere te eh? Ale Ah devi convincere Ale Fai la tua faccia convincente Leti Hai visto che faccia? Aspetta Concentratevi Ale Prima ti dice la frase Poi ti fa la faccia convincente Guarda eh Devi riuscirci eh Regina Devo parlare con il mio insegnante L'insegnante 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 Aspetta aspetta un secondo Devo parlare con il mio insegnante L'insegnante 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 Passiamo di gradi con Me lo scrivo guarda perché No Va bene Te lo ripeto dopo Prego Oh regina reginella Quanti Come si dirà? Aspetta Cosa devo fare? Cosa devo fare? Per arrivare al suo castello Tutto d'oro Tutto bello? Vai Non mi ricordo più Due rovescianti avanti più ribaltata O una cosa simile Oh no Sei stata molto convincente eh Hai visto che faccia? Adesso c'è con tutti i miei pagentini L'altra che ha una faccia così È l'Irene Irene Brava è vero Convincente eh La faccia proprio quando mi devi chiedere qualcosa Adesso a lui Oh regina reginella Cosa devo fare per arrivare al tuo castello Tutto d'oro e tutto bello? Della faccia convincente? Beh Non il massimo eh Rincorsa salta avanti E' vero Oh 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 Dov'è l'arrivo? Dov'è l'arrivo? Ci arrivi? E' vero! Irene sei arrivata al castello E adesso farai una bellissima giornata con la regina e i suoi paggi Sì Non so quanto ti convenga Dobbiamo andare a casa a pulire la cacca dei gatti Però va bene lo stesso Wow E' vero E' vero Si vede sì Prego venite qua i nostri subiti a distanza di un metro Noi ci siamo divertiti moltissimo Non possiamo dire scrivete nei commenti perché i commenti non sono attivi Certo E quindi allora cosa si dice? Speriamo che questo video vi sia piaciuto Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale Lasciate tanti like E? Eh? Sentiamo il finale E ricordatevi di attivare la campanella Ricordatevi di iscriversi al nostro canale e al canale della Sabri Prima che chiudiamo il video sto andando in palestra così quando faccio no no Guardate com'è duro qua No 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 E' ancora un po' flaccido al momento Si fa Ciao Provate a fare no no voi Conosco il nostro canale